Fiera a Pagare Fondamentalmente di boicottaggio, una campagna diretta a cambiare la polizia aziendale di Fiera a Milano nei confronti del territorio. Signore, attenzione che le sanzioni ci sono, non siete autorizzati a entrare gratuitamente, è un consiglio, non è un'intimidazione. La petizione che noi promuoviamo, per quanto adesso il primo obiettivo intermedio è quello di chiedere l'introduzione della tariffa unica da Ruffiera, e da Rocentro. In realtà noi diciamo che la tariffa unica andrebbe fatta per tutto l'ambito territoriale del cosiddetto patto dei 16 comuni, che è un ambito territoriale che compiene da 300.000 persone e 16 comuni di questo territorio. Oggi si viaggia gratis, sempre fiera a Milano e viaggi grandi!